Quindi sto 21 pollici? Is the new black Porca miseria, lo vogliono tutti, lo offrono tutti, tu ce l'hai, io ancora non ce l'ho ma ne ho provate Ne ho provate e io ho una mia idea sul 21 pollici Ho fatto anche un video di confronto tra le 17, 19 e 21 pollici Però le moto moderne hanno rivoluzionato questa misura Guarda, a me il 21 pollici in realtà è sempre piaciuto L'ho sempre un pochettino snobbato perché ovviamente è una ruota più adatta a chi affronta dei terreni impervi Con una strezzata d'occhio all'off-road e al fuoristrada Però grazie ai telai, alle tecnologie moderne e anche all'elettronica è diventato un formato digeribile È diventato un formato di moda Secondo me anche perché fa pensare a tutti, ai grandi raid africani, a fare off-road, ad essere liberi Off-road che negli ultimi anni forse è diventato l'obiettivo di molti Ma prima di iniziare a parlare di questo bell'argomento Benvenuti sul canale, io sono Toto, lui è Eddie del canale Bikes4Eddy Il link ve lo lascio sempre qui sotto in descrizione E ovviamente il primo commento in evidenza sarà il suo E sarà? Ciao Riders! Esattamente, e parliamo proprio di questa che è una novità in realtà degli ultimi anni Perché in realtà il 21 pollici con gli storici Transalp e Aprilia Tuarega La Fica Twin Era di moda negli anni 70-80 80-90 80-90 Dopodiché ha avuto una parentesi molto decadente fino a pochi anni fa Scusa, 5-6 anni fa 5 anni fa, perché fino al 2017 in realtà abbiamo visto una tendenza molto forte Che era 17 pollici e eventualmente 19 pollici Come mai secondo te? Allora, come detto, secondo me le tendenze di mercato in qualche modo cavalcano anche delle mode Non a caso negli anni fino 80-90, quando è uscito il Tuarega che vediamo lì dietro Siamo nel 1986, commercializzato nel 1987, il Transalpe dell'87, l'Africa Twin e la Super Tenerife Più o meno sono degli stessi anni Sono tutti gli anni in cui il mondo dell'off-road era catalizzato O meglio, l'attenzione sul mondo dell'off-road era catalizzata dai grandi ride africani Dove necessariamente per correre sulla sabbia si usava il 21 pollici abbinato al 18 anziché al 19 Che è una gommatura tipica del cross Poi progressivamente questa tendenza è scemata Perché anche per le moto, diciamo, saariane si sviluppavano i 450 I 450 difficilmente potevano essere utilizzati per il turismo su strada E di conseguenza c'è stato un momento di flessione Fintanto che, bella bella, zitta zitta, cacchia cacchia Grazie al suo CP2, Yamaha ha tirato fuori la nuova Tenerife Che è stata, secondo me, la moto che ha rivampizzato per volumi, per numeri e per versatilità di utilizzo Il settore, è una moto che a me piace tantissimo Lo dico spesso, è una moto tuttofare con cui davvero puoi fare tutto e puoi farlo bene Ha un telario eccezionale, motore eccezionale e soprattutto 21 pollici E fuoristrada è una lama In fuoristrada è una lama e soprattutto è una lama in tutte quelle strade Che sono buona parte delle strade belle che ti permettono di raggiungere bei panorami Hanno buche, sporco, sassi, legna, radici e chi più ne ha più ne metta E con quella ci vai e ci vai tranquillamente Ed è una tendenza che ha spinto poi molte altre case a ritornare su questo settore Che adesso possiamo definire come settore di tendenza Cioè Africa Twin, 21 pollici 21 pollici che fino a qualche anno fa era solo per Ah no, io faccio solo fuoristrada per cui prendo il 21 pollici Adesso c'è gente che ci viaggia in coppia con il 21 pollici Tra cui il nostro amico Buzzo con l'Africa Twin è andato fino a Caponord Non è necessario avere un Africa Twin per arrivare a Caponord Perché c'è gente che ci arriva col ciao Però ha dimostrato nel suo video e nella sua impresa Come queste moto siano così versatili Addirittura c'è quasi un'inversione Perché mentre prima il 21 pollici era solo fuoristrada Con la nuova Desert X Ducati addirittura una moto che va quasi meglio su strada Che non in fuoristrada Ma questo anche grazie all'elettronica Grazie all'elettronica Il problema dell'inerzia delle 21 pollici e della ruota anteriore così grande Quindi con tutto quello che si porta dietro È in parte risolto anche dal fatto che sono passati 20 anni Per cui la tecnologia si è evoluta Abbiamo già parlato in un altro video dell'elettronica Di come l'elettronica possa aiutare le moto Di conseguenza anche l'adozione di raggiature, gommature diverse Che una volta erano tra virgolette proibite O appannaggio di un modo di riferimento Soprattutto adesso abbiamo anche 21 pollici che sono tubeless Cosa che fino a qualche anno fa era impensabile Non era possibile Ecco che in questo modo si può riavvicinare Scusate Ad un settore che forse era stato un pochettino abbandonato Soprattutto considerando quello che è il normale utilizzo Di chi usa la moto su strada Cioè è vero c'è lo smanettone E ci sarà sempre quello che dice per me L'unica moto è la supersportiva Ma nella maggior parte dei casi in cui l'utilizzo della moto è Vado nelle colline Vado nelle campagne Vado nelle montagne Vado con l'agriturismo Con la mia compagna o compagno Mi faccio la scampagnata Magari c'è il tratto appunto sporco di sentiero Tutto quello che vuoi In realtà avere la precisione di guida Una 17 pollici diventa quasi controproducente Perché hai molte più precisione e soprattutto Hai una trasmissione diretta di quello che sono tutte le asperità dell'asfalto E tutto lo sporco che puoi trovare sull'asfalto Cosa che viene smorzata appunto dalle 19 pollici Che sono una via di mezzo Che forse però a questo punto diventano un po' né carne né pesce Infatti secondo me sarà il prossimo settore a subire una diminuzione in termini di volumi e di vendite Forse il 19 pollici sopravvive nel settore scrambler Perché la scrambler è un po' quella moto che vai per passeggio Però alla fine è un po' una moto da bar Senza nulla io ho la scrambler È bellissima Io ne sto facendo una E in fuoristrada va da Dio per quelle che sono le mie capacità Però per l'utente medio che magari non ama avere tutta l'aria addosso Non ama affrontare tante difficoltà Diventa limitante Perché ovviamente è una Nakeda con la ruota da 19 Possiamo chiamarla così Mentre la 21 pollici oggi ha il KTM 1290 Super Adventure S KTM 890 e 790 C'è la F850GS Insomma c'è il Tuare Che c'è insieme il Transalp nuovo Il Suzuki nuovo 800 Il nuovo Suzuki 800 Hanno tutti i 21 pollici Si vede che avranno preparato tutti i video Sulle 21 pollici Sono preparato Sì Hanno tutte le 21 pollici Ed è un segmento di mercato Che viene parecchio apprezzato Forse anche perché E questa magari potrebbe essere una ricerca da fare La popolazione è cresciuta E quindi avere È vero Una moto piccola Come una Nakeda una Scrambler Diventa un po' limitante Perché ti fa stare tutto rannicchiato Mentre salire su un 21 pollici Ti fa stare con la schiena dritto Hai maggiore protezione dall'aria Ti fa fare tutti i terreni Hai comunque l'immagine di Poltarres Che le usa come se pesassero carta pesta E in realtà tu non hai la minima possibilità Ma né io né lui Né moltissimi altri Abbiamo la capacità di far andare un Endurona Da 200 e passa chili Come fa Poltarres Che sembra che sia di carta pesta Anche se Un po' di tempo fa Una quindicina di giorni fa Sono andato nel crossodromo di Trofarello E c'era qualcuno Che non ho capito chi fosse Perché non ho avuto tempo di soffermarmi Che girava nella pista internazionale Con un Tenerè Addirittura Ma preparato? Preparato 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 Veramente Veramente una cosa da Una roba impressionante Perché la pista di Trofarello Ha poi dei salti Che ti sparano in alto Io l'ho vista E mi è venuta paura C'è proprio una roba Che probabilmente Farei tra due o tre anni Se da questo momento Iniziasse a fare solo cross Esatto Esatto Quindi farla con un Tenerè Diventa impegnativo Diventa quasi spaventoso Però sono moto che Hanno un grosso apprezzamento Da parte del mercato Nonostante Ripeto Il 21 pollici Possa apparentemente Essere qualcosa di Molto limitante su strada In realtà oggi come oggi Esalta quasi La strada Esalta il piacere di Viaggiare liberi Beh tu hai provato Sicuramente il Tenerè Sì Sicuramente il Tuareg Ancora no Ah E onestamente Sono due moto Che su strada Te le godi al 100% Addirittura secondo me Vanno troppo forte Per il tipo di moto Che sono Sì Decisamente sì Perché Hai sempre il gas in mano Vanno comunque forte Affronti le curve Anche dove l'asfalto Non è perfetto Con una serenità tale Proprio perché il 21 pollici Avendo un raggio maggiore Ti permette di superare Quelle asperità Senza neanche accorgertene Esattamente E un po' lo stesso processo Che si è fatto con le biciclette Quando sono passate Dal 26 al 29 pollici Quindi un raggio Più grande Che ti permette di superare Meglio gli ostacoli Ostacoli che purtroppo Nelle strade troviamo Sempre C'è anche in una strada Perfetta Ti può capitare Il sassolino Il brecciolino Il camion Che ha perso Dei detriti Pezzi di legno Mi è capitato in autostrada Di avere delle travi di legno E passarci con la macchina Sopra Fortunatamente È tutto in orizzontale Quindi la macchina va Però Appunto Ti capitasse con una tuono È un problema È un grosso problema Ti capita con il tenere Senti E dici Cos'era Ok È una roba del genere Si può fare Sì E quindi Insomma Questo 21 pollici È tornato alla ribalta In maniera quasi inaspettata Sì Ma Ripeto La cosa da un certo punto di vista Non mi stupisce Perché appunto Rilanciando il tenere Yamaha ha fatto da Frontrunner Su quel segmento di mercato E le altre aziende Le altre case Si sono poi dovute impegnare L'hanno seguita subito Esatto Nel seguire Perché hanno capito Che lì c'erano dei grandi volumi Come dicevamo prima Secondo me Nei prossimi anni Il segmento Diciamo Il diametro Che pagherà di più Sarà quello del 19 Perché o si va Verso la super sportiva 17 O 21 Con queste nuove maxi enduro Diventa una via di mezzo Che forse poi Non ha così tanto senso Soprattutto considerato La bontà Di una 21 pollici Odierna Moderna E soprattutto Considerando che La 21 pollici Comunque Essendo una moto Di per sé grande Perché 21 pollici È una ruota molto grande Se ci state vicino Vi arriva probabilmente Alla coscia Quindi fate un po' La proporzione Rispetto Io sono alto 1,78 E mi arriva A sopra il ginocchio E sono moto Che apprezzano il carico Cioè tu ci metti Il boletto La borsa da sella Le borse laterali E la borsa da serbatoio E comunque E puoi viaggiare E puoi viaggiare tranquillo In tutte le condizioni E forse questo È un po' sintomo Di quel bisogno Di quella necessità Di libertà Che si è scatenata Inevitabilmente Dopo la pandemia E il 19 pollici Rimarrà legato A chi fa flat track Il 19 pollici Sì Rimarrà legato A chi fa flat track Oppure appunto Al mondo scrambler O alle modern classiche Quindi alla moto Che ripeto Forse vuole essere Un po' più Da Appariscenza Un po' più Da stile Cioè io mi immagino La modern classica Una scrambler Con casco vintage Un po' aperto Giacca Guentino Traforato E' una roba del genere Mentre sto 21 pollici È diventato qualcosa Che oggi come oggi È veramente Versatile A 360 gradi Perché lo puoi usare Per strada Con enorme soddisfazione E poi Ti permettono Una volta arrivati in cima Magari di scendere dal sentiero Che è un'emozione Tutta nuova Io vorrei sapere Che cosa ne pensano Gli spettatori del canale Di Totorider Di questa cosa Si amano di più Il 17 Il 19 Il 21 Tu che cosa preferisci 17 Il 19 Il 21 Ne puoi comprare solo una Ne puoi comprare solo una Domanda Non l'avevamo preparata Anche perché io adesso Ho due moto Proprio per lo scopo Una per fare fuoristrada E una per fare Però ne puoi scegliere solo una Se dovessi scegliere solo una Oggi come oggi Con le moto che ci sono oggi Prenderei un 21 pollici Io anche Senza dubbio Probabilmente Il Desert X Probabilmente Io non lo so Io sono Sono davvero molto 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 attirato Dalla nuova Transalp Perché secondo me È il giusto compromesso Di potenza Peso Dimensioni Onda Ah lo stile Non mi piace Non è vero Lo stile è bellissimo Se le persone che dicono Lo stile da Transalp Non mi piace Si fermassero a guardare La prima Transalp Capirebbero perché Il faro è fatto così La linea è quella Cioè secondo me È stata una rievocazione Fatta in maniera Anche piuttosto fedele Rispetto a tante altre Che prendono solo il nome E poi non c'è nulla Quindi sì Probabilmente Avessi solo una moto 21 pollici Dobbiamo andare a prenotarla Allora A fine anno Mi sa che Ci mettiamo le mani su Per questo video è davvero tutto Io ringrazio come al solito Eddi Grazie a voi ragazzi Per permetterci Di fare ancora Queste discussioni Fateci sapere nei commenti La vostra opinione Vi lascio i link A tutti i suoi social E al suo canale Andatevi a iscrivere Grazie Qui sotto in descrizione E ovviamente Il mio di bisogno Io sul canale è piccolino Il primo commento è il suo E ovviamente Vi promettiamo Che non ci fermeremo A fare video solo sul divano Anzi No Beh adesso è febbraio Io ho freddo Anch'io Però secondo me Il mese prossimo Già non siamo più sul divano Non siamo più sul divano E sfregatevi le mani Perché ne arriveranno delle belle Ciao Ciao riders Ciao Grazie per la visione!